I gengivi si ritrovavano, il dottore non poteva mettere i denti e per là era problematico perché tranne i gengivi loro i denti non li volevano mettere. Mio marito mi ha persuasa a farmi i denti perché in Germania non era un prezzo possibile, non me lo potevo permettere, se no non potevo più mangiare un altro po'. Le persone erano molto accoglienti, molto affettuose, la quale noi ci siamo affezionati tanto. Dopo tre giorni stavo bene, cominciarono a mettermi i denti, già io mi sentivo una donna felice, molto felice perché potevo mangiare, non pensavo che io, anzi pensavo che non potevo mangiare bene, invece no, invece no. Devo dire che ero molto molto felice, mangiavo di tutto, tutto proprio non c'era una cosa che veniva duro oppure tutto mangiavo. Quando noi siamo ripartiti in Italia tutti dicevano, oh che sono belli quei denti, fammi vedere, fammi vedere, e io gli facevo, se voi avete bisogno, anche io ho un cognato che ha bisogno e gli ho detto guarda quanto tu devi andare, ce lo dici, noi abbiamo il tempo, ti accompagniamo, veniamo con te e ti fai i denti. E così è stata, sono passati sei mesi veramente meravigliosi, meravigliosi. Nessun problema, ancora sono un po' timida, un po' emozionata. per me è stata una grande grande esperienza, una bella esperienza che l'ho condivisa con tutti, veramente tutti.